Lasciarsi senza rancore in tempi rapidi, grazie al divorzio breve, si può imparare in azienda. Sono diverse le imprese medio-grandi della provincia di Verona che hanno istituito dei mini-corsi per i dipendenti con l'ausilio dell'AIAF, Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia e il Minore. Lo racconta il presidente Veneto che tiene le lezioni coadiuvato da uno psichiatra o da uno psicologo. Le storie finite male o di cui viene prolungata l'agonia per anni, sottolinea l'Avvocato Sartori, rappresentano un onere per le aziende che si trovano ad avere dipendenti depressi, poco motivati, quando non in piena crisi psicologica. Sartori si dice convinto della bontà del divorzio breve. Avrà il grande pregio, spiega, di ridurre i costi sociali ed emotivi dei fenomeni disgregativi delle famiglie prolungati nel tempo e vissuti tra ripicche, dispetti, odi e contrapposizioni.